Automobilisti avvisati, un altro autovelox è pronto ad entrare in funzione sulle strade del Cilento. L'apparecchio di misurazione della velocità sarà attivato entro gennaio dal comune di Ceraso. L'ente guidato dal primo cittadino Gennaro Maione è infatti aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese, composto dal consorzio Gives e alla Gamma Tributi, la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di noleggio di rilevatori elettronici delle infrazioni per i prossimi tre anni, per un importo di 306 mila euro. L'autovelox sarà installato nel tratto della Cilentana che attraversa il comune di Ceraso, quindi subito dopo l'uscita di Vallo della Lucania per chi arriva da Valloscalo o prima di Cucarovetere per chi viaggia in direzione Palinuro. Smorza subito ogni polemica il sindaco Maione. Non è il primo autovelox che installiamo sulla Cilentana come comune di Ceraso, tiene a precisare, controllare quel tratto di superstrada fu deciso tempo fa a seguito di un incontro con la loro procuratura e capo greco, a seguito di numerosi incidenti mortali. Lo scopo è quello di intensificare l'attività di sorveglianza. L'installazione di nuovi autovelox si tiene comunque con il fiato sospeso gli automobilisti che quotidianamente transitano sulla variante e alla strada statale 18, già alle prese con l'apparecchio installato all'altezza di Agropoli. Nei mesi scorsi l'autovelox ha fatto scattare sanzioni per migliaia di automobilisti, sollevando non poche contestazioni. Ora è stato spostato all'altezza della stazione ferroviaria, sempre sulla Cilentana, e continua a mietere vittime. Dopo Agropoli, la lunga serie di comuni cilentani, pronte ad installare nuovi autovelox sulle proprie strade, sembra non finire. Nelle ultime settimane all'elenco si è aggiunto appunto Ceraso, ma sarebbero interessati ad installare autovelox anche i comuni di Capaccio, Pestume e Albanella.